Benvenuti al TG8, il fatto di sangue avvenuto poco fa a Bucchianico ci porta in subito in collegamento in diretta con la nostra inviata, con Anna Di Giorgio. Una donna è stata trovata senza vita in una abitazione, probabilmente è stato lo stesso figlio, poi arrestato per l'omicidio a chiamare la polizia o i carabinieri. La donna, tra l'altro, assisteva la sorella che era allettata. La famiglia da poco tempo era andata a vivere a Bucchianico. Vediamo ulteriori elementi, naturalmente oltre quel poco che ho detto, con il collegamento con la nostra Anna Di Giorgio. Buongiorno Anna. Buongiorno Marina, buon pomeriggio, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Sicuramente non è un buongiorno invece per Bucchianico e la comunità perché questa mattina questo comune della provincia di Chieti si è svegliato al suono delle sirene dell'ambulanza del 118 e anche dei carabinieri che sono intervenuti sul presto, ci hanno detto intorno alle 8 e mezza, 9 di questa mattina, a seguito di un fatto di sangue che è avvenuto in una abitazione appunto nel centro storico del paese. Alle mie spalle, con la telecamera di Diego Martelli, infatti potete vedere proprio la strada cappellina di San Camillo che porta all'abitazione dove si è consumata questa tragedia. Quello che sappiamo e usiamo ovviamente è il condizionale che in questo caso è d'obbligo perché ci sono delle indagini in corso e le notizie che abbiamo raccolto questa mattina ovviamente hanno bisogno di un'ulteriore conferma che sicuramente arriverà nelle prossime ore. Comunque quello che abbiamo raccolto è questo, questa mattina una donna di 69-70 anni è morta, sembrerebbe al culmine di una lite scoppiata in famiglia per mano del figlio che l'avrebbe accoltellata. I protagonisti di questa vicenda sono Paola e Cristiano De Vincentis, questi i loro nomi così come abbiamo saputo, ma ripetiamo comunque sono notizie che hanno bisogno di un'ulteriore conferma. Madre e figlio che al termine di questa lite appunto ha portato alla morte della donna, sembrerebbe per mano del figlio in casa, della famiglia. C'era anche un'altra donna, la sorella della donna morta, quindi zia dell'uomo che si trovava in un'altra stanza con problemi probabilmente di dambulazione, rallettata così ci è stato detto e che al momento del fatto non si sarebbe neanche accorta di quello che era accaduto. Sta di fatto che quanto pare l'allarme è stato lanciato da un vicino di casa che poi tra l'altro si sarebbe anche sentito male. Questa persona avrebbe chiamato il 118 dopo che alla sua porta si sarebbe presentato il figlio della donna morta e quindi da lì poi è partita tutta la macchina dei soccorsi. Per la donna ovviamente non c'era nulla da fare, mentre il figlio è stato portato in ospedale dove è tuttora piantonato dai carabinieri perché in questa collotazione avrebbe riportato delle ferite anche lo stesso figlio. Il 118 ha portato all'ospedale anche l'altra donna che era presente in casa al momento del fatto per ulteriori accertamenti. Fin qui la ricostruzione sommaria del fatto di quello che è accaduto. Sono intervenuti da subito i carabinieri, il comando compagnia Carabinieri di Chieti, il comando provinciale Carabinieri di Chieti ma anche i carabinieri di Bucchianico stesso che sono attualmente al lavoro proprio per cercare anche di ricostruire la dinamica dei fatti insieme a Cristian Dovidio che è il medico legale e al PM Giancarlo Ciani che sono ancora nell'abitazione dove si è consumato il fatto. La famiglia diciamo subito che non è di Bucchianico ma si sarebbe trasferita pochi mesi fa qui in paese in una casa in affitto e in paese non era molto conosciuta, diciamo che non aveva legami, non aveva stretto legami particolari con i paesani appunto e quindi anche le stesse persone che questa mattina abbiamo ascoltato ci hanno detto che la famiglia si vedeva a volte in giro per il paese ma non aveva insomma confidenza anche con gli altri. Abbiamo ascoltato il sindaco di Bucchianico Carlo Tracanna, abbiamo ascoltato anche padre Gennaro Santone rettore parroco del santuario di San Camillo e poi l'assessore comunale alle politiche sociali Valentina Peca che ci hanno raccontato anche che all'inizio quando si sono trasferiti qui in paese si pensava addirittura a una famiglia di villeggianti poi si è venuto a sapere che insomma invece erano persone che avevano deciso di vivere qui probabilmente si dice vengono da Chieti o comunque dalla provincia di Chieti ma c'è dietro questa famiglia probabilmente anche una storia di disagio sociale un po' più importante insomma sono in corso ovviamente le indagini in questo momento stiamo aspettando anche che venga portata via la salma della donna che ha perso la vita al culmine sembrerebbe appunto di questa lite avvenuta qui in mattinata però insomma ci sarebbe appunto questa storia di disagio sociale non aggiungiamo altro perché dicevamo sono in corso le indagini ne sapremo di più anche nelle prossime ore possiamo salutarci Marina se non hai domande sentendo l'intervista al sindaco No va bene così so che dei contributi che una parte li ascoltiamo adesso e un'altra parte andrà poi nel speciale della sera Esatto Dici le tue interviste Sì abbiamo il sindaco Carlo Tracanna e abbiamo anche padre Gennaro Santone Rettore anzi un momento che mi sposto perché stanno evidentemente uscendo in questo momento il medico legale possiamo vedere le immagini dalla telecamera appunto di Diego Martelli il medico legale Cristian Dovidio e il PM di turno Gian Carlo Ciani che sono intervenuti appunto questa mattina Possiamo chiedervi se potete Grazie Anna allora ripreso anche l'uscita Sono andati sì ovviamente Sì perfetto va bene Quindi dicevamo questo materiale poi lo vedremo anche Sì possiamo Nel nostro speciale In serata cercheremo di avere altro materiale Intanto il sindaco di Bucchianico Carlo Tracanna e padre Gennaro Santone Rettore parroco del santuario di San Camillo Marina a te la linea Grazie Carlo Tracanna sindaco di Bucchianico Quello di questa mattina è stato un risveglio più che brusco per la vostra comunità La famiglia avete detto non era residente si conosceva poco Era poco integrata con gli altri concittadini Perché di fatto erano arrivati da poco? Sì pare che si trovano qui a Bucchianico in questi stati Quindi da pochi mesi Io personalmente li vedevo ogni tanto girare per la piazza forse Per fare la spesa Non sono neanche a conoscenze dei loro nominativi Perché non essendo residenti Quindi possiamo sapere più di tanto Come li vedevate ogni tanto passare in piazza? Comunque ci diceva che di tanto in tanto uscivano Sembravano un po' per i fatti loro Non li vedevo mai magari parlare con altre persone E né tanto o meno Mai si sono rivolti a noi Magari i servizi sociali Se avevano dei problemi Diciamo sociali Padre Germano Santone Rettore parroco del santuario di San Camillo Qui a Bucchianico La famiglia frequentava il santuario? La signora veniva in parrocchia Ed era aiutata dalla Caritas parrocchiale Quindi aveva la possibilità di Di usufruire di quello che offriamo La sua presenza a Bucchianico è da quest'estate Solo dagli inizi di settembre si era presentata a me Chiedendo appunto una mano, un aiuto E abbiamo dato Il rammarico grande Forse è che non c'è stato tempo per capire Anche da parte mia personalmente Questo è un po' il rammarico che ho questa mattina Perché le richieste d'aiuto c'erano Ovviamente non di questi livelli Più materiali erano Di bisogni quotidiani Però evidentemente nascondevano qualcos'altro Non abbiamo avuto proprio molto tempo per conoscerci E per capire meglio Quindi principalmente questa è l'esperienza Che abbiamo avuto con lei, con la signora